Grazie a tutti. Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Inizia domani il Master 1000 di Monte Carlo, primo torneo importante sulla Terra Rossa. C'è grande attesa per il ritorno di Diokovic, numero uno del mondo, ma soprattutto di Rafa Nadal, vincitore per 11 volte di questo torneo e grandissimo favorito per la vittoria finale. Se sei in forma e sta bene, è imbattibile sulla Terra Rossa. Per quanto riguarda gli italiani, tutti gli occhi sono puntati su Yannick Sinner, fresco finalista del Master 1000 di Miami. Purtroppo non ha avuto un tabellone facile. Al primo turno incontra lo spagnolo Ramos. Se passa, si troverà di fronte Diokovic. Può batterlo, però questo incontro serve a farlo crescere. Per quanto riguarda gli altri italiani, c'è attesa anche per il ritorno di Berrettini, che era arrivato agli ottavi, agli Australian Open, ma si è dovuto ritirare per un infortunio. Poi ci sono Fognini, vincitore due anni fa di questo torneo, dopo un'epica finale contro Rafa Nadal. Sonego, che è finalista in Sardegna all'ATP 250. E Musetti, che è un fenomeno, è veramente bravo. Gioca a rovescio una mano, ha un dritto pazzesco. E ha solo 18 anni questo ragazzo. Per il futuro, tra Sinner e Musetti, siamo messi molto molto bene. Credo che sarà un bellissimo torneo, infatti ci sono tutti i top. Gli unici assenze sono, purtroppo, quelle di Federer, che ci manca, e di Tim, che secondo me è il numero due al mondo sulla Terra. Vi aspetto alla prossima, un saluto dal vostro Marco. Gli unici assenze sono, purtroppo, quelle di Federer, che ci manca, e di Tim, che ci manca, e di Tim, che ci manca, e di Tim, che ci manca.